Nell'ultimo periodo si assiste ad un escalation di aggressioni e episodi di violenza nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, oltre a ricoveri urgenti di detenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Ariano. La comunicazione arriva dall'OSAP, Organizzazione Sindacale Autonoma, Polizia Penitenziaria. L'ultimo episodio risale a due giorni fa, quando un detenuto al termine del Consiglio di Disciplina, a suo carico per alcune infrazioni commesse dallo stesso, durante il rientro in sezione, ha preso un'estintura e lo ha squagliato contro i vetri delle finestre. Quando il personale è intervenuto con l'intento di bloccarlo, ne è nata una colluttazione, durante la quale sono rimasti feriti alcuni poliziotti. L'OSAP denuncia che tali episodi sono diventati ormai routine, una situazione difficile resa ancora più preoccupante a causa della mancanza, presso la casa circondariale di Ariano, di un locale nucleo traduzioni e piantonamenti con relativo personale, nonché di automezzi idonei per lo svolgimento di tali compiti, visto che la competenza del servizio traduzioni e piantonamenti dell'Istituto Penitenziario a Rianese è demandato al nucleo traduzioni distanza da Avellino. Inoltre, per quanto riguarda i detenuti cosiddetti collaboratori di giustizia, la competenza è affidata al nucleo operativo collaboratori di Napoli. Tale organizzazione comporta una serie di difficoltà in merito ai tempi necessari per raggiungere la casa circondariale del Tricolle, considerata la distanza con Avellino e Napoli e che incide oltretutto dal punto di vista economico. Pertanto, conclude il sindacato, mai come adesso si avverte l'opportunità e la necessità di istituire un nucleo traduzioni e piantonamenti locale, così come esistente prima del 1996 da parte dell'arma dei carabinieri presso la compagnia di Ariano, prima che il servizio fosse assunto dal corpo di polizia penitenziaria.